Dici che c'è una persona... Io credo che risponde un po' a quello che noi abbiamo voluto fare, portando i poveri al centro dello Stato. Devo dire che oggi la visita della Presidente mi dice che hai fatto bene a portarli qui. Questa visita per noi è molto importante. Farci sentire più importanti, dare un senso a questa chiesa e sentirsi molto interessanti. Tutto qua. Grazie. 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 Grazie.